Torna il presepe vivente a Chieti. La 28esima edizione sarà rappresentata il 6 gennaio dalle ore 17 all'interno del Museo La Civitella. L'intento dell'Associazione Culturale Teate Nostra è quello di promuovere i tesori della città e quest'anno sarà la volta di uno dei più preziosi. Si entrerà da Via Ravizza e saranno impegnati anche Largo San Rocco, il Parco archeologico, lo Stellario e Ascendere, Piazzale di Resta dove verrà allestita la città di Betlemme, mentre la Natività e il Villaggio dei Pastori saranno all'Anfiteatro. In tutto ci saranno 11 gruppi partecipanti nelle varie scene. Ma la Civitella perché con anche una serie di cantieri che insistono in città riusciamo a circoscrivere tutte le rappresentazioni in quel rione, in quel quartiere e segnatamente nel parco archeologico senza creare disagi alla cittadinanza, ai residenti e soprattutto non potendo usufruire di talune piazze che sono oggi oggetto di lavori. Quindi per questo ritorno, dopo diversi anni che il presepe viveva e non si teneva, abbiamo deciso con l'Associazione Teate Nostra di riproporlo presso il quartiere della Civitella. Dalle sacre rappresentazioni ammirate da San Francesco d'Assisi a Betlemme nel 1222 passando per le laudi provenienti da Chieti nel IX secolo fino ad arrivare a Gaetano da Tiene. A lui attribuito il primo presepe popolare della prima metà del 1500 e Chieti ne è stata Culle Teatro. Quest'anno c'è una novità, si fa per dire, considerata che dovrebbe risalire all'epoca di Erode. Sarà soltanto questo falconiere che porterà i rapaci, quindi non ci saranno i voli dei falconi, dei falchi, quindi ci saranno solo queste esposizioni di rapaci e faranno il battesimo del guanto, l'abbiamo chiamato, ossia chi vuole avere l'esperienza di avvicinamento dei rapaci indosserà questo guanto da falconiere per poter fare poi delle foto, ricordo, con questi rapaci. Sono state firmate due ordinanze per la viabilità che sono disponibili sul sito del Comune. Grazie a tutti.